Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Esattamente come previsto nella giornata di ieri Apple ha rilasciato iOS 11 beta 5 developer preview e nella giornata di oggi salvo sorprese dovrebbe arrivare anche la beta pubblica. Ma la beta per sviluppatori è già disponibile quindi andiamo a vedere cosa è cambiato. Anzi i più attenti di voi già avranno notato qualche differenza ma a questo punto non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Allora ragazzi iOS 11 beta 5 developer beta 5 è stato rilasciato nella giornata di ieri l'aggiornamento OTA sul mio iPhone 7 plus aveva un peso di circa 300 megabyte quindi un aggiornamento relativamente leggero infatti non ci sono tantissime novità in questa nuova beta ma qualcosa è cambiato ed è cambiato anche qualcosa a livello estetico. Infatti come abbiamo visto fare già con altre icone come l'icona di App Store come l'icona di contatti di note di promemoria e anche altre icone Apple continua a ridisegnare iOS e con la beta 5 di iOS 11 cambiano anche le icone di fotocamera e di impostazioni. Icone che devo dire vengono soltanto ridisegnate ad esempio quella dell'app fotocamera. Vedete adesso non ha più le linee che attraversano l'icona stessa della fotocamera ed è leggermente più nera insomma un po' più flat e un po' più nera. Lo stesso discorso più o meno vale anche per l'app impostazioni qui però l'icona resta praticamente identica non ci sono modifiche ma come ha detto qualcuno su Twitter adesso sembra che si sia messa il mascara perché anche qui non c'è più il contrasto grigio su grigio ma c'è adesso un contrasto più forte nero su grigio come potete notare. Ma ovviamente le novità di iOS 11 beta 5 non si fermano qui infatti ci sono anche altri miglioramenti e altri ritocchi. In particolare il centro di controllo, il nuovo centro di controllo di iOS 11 adesso aggiunge qualche piccolo ritocco come questa icona, questo indicatore qui in alto che se andiamo a premerlo insomma ci aprirà direttamente la schermata di selezione di AirPlay in sostanza per scegliere dove far riprodurre in questo caso musica o altri contenuti ad esempio qui ho il mio iPhone oppure l'Apple TV se accendessi le Airpods comparirebbero lì anche loro infatti questo accadrà tra pochi secondi vedete è appena accaduto quindi una nuova schermata che in realtà mancava appunto su iOS 11 se andiamo invece a toccare in un altro punto dell'indicatore del widget dell'app musica con un 3D touch sui dispositivi che lo possiedono e senza 3D touch ma con una pressione prolungata sui dispositivi che non hanno il 3D touch si aprirà la classica schermata con il tasto play la regolazione del volume eccetera eccetera. Un'altra novità che riguarda sempre il centro di controllo è relativa ai pulsanti ai toggle che non sono compatibili con il 3D touch ad esempio questo qui della registrazione schermo per cui c'è anche un'altra novità che vedremo subito dopo ha il 3D touch e si apre così se invece non c'è un'azione del 3D touch noi andiamo a premere con forza tipo questo della batteria del risparmio energetico quando lasciamo in automatico si attiva il toggle in questione non era così prima vedete ad esempio in questo caso abbiamo il 3D touch su toggle come quello della modalità non disturbare in auto non c'è ma andando a premere forte comunque poi si attiva il pulsante anche senza appunto eseguire semplicemente il tap quello che servirebbe e basterebbe per attivare quel toggle. Una piccola modifica c'è anche per quanto riguarda gli indicatori della luminosità e del volume vedete c'è una leggerissima animazione che va a far muovere un pochino l'icona della luminosità si nota forse meglio però per quanto riguarda il volume vedete compaiono delle onde in più qui a seconda di come andiamo ad alzare o abbassare il volume un piccolo cambiamento però molto carino. Un'altra novità sempre nel centro di controllo quella di cui vi stavo già parlando prima riguarda la registrazione dello schermo quando noi attiviamo la registrazione dello schermo c'è sempre il nuovo countdown ma adesso al posto di comparire una barra blu grossa qui in alto compare soltanto questa status bar rossa sottilissima che ci segnala appunto che il telefono sta acquisendo lo schermo premendo qui possiamo interrompere la registrazione o annullarla. Un'altra novità esclusiva al momento solo per iphone 7 plus ma probabilmente sui prossimi iphone ci sarà riguarda la modalità ritratto nella fotocamera che esce dalla fase beta e per questo guadagna questa splash screen che ci invita insomma ad utilizzarla e ci spiega anche come fare per ottenere uno scatto con profondità di campo simulata sul nostro iphone 7 plus o appunto sui prossimi iphone. E un'altra splash screen molto simile la troviamo su ipad dopo l'aggiornamento ios ci segnalerà in fase di configurazione le novità principali quelle che cambiano tanto l'ipad ossia il nuovo doc e la possibilità di utilizzare più app contemporaneamente sullo schermo e di passare da un app all'altra tra quelle che abbiamo utilizzato di recente. Aprendo l'app salute dopo aver aggiornato da ios 11 beta 5 comparirà questo messaggio che ci invita a scegliere se vogliamo contribuire in modo anonimo oppure no al miglioramento dell'app salute che andrà a raccogliere i nostri dati. Io ho scelto di non consentire perché non voglio comunque che i miei dati sulla salute finiscano nelle mani di apple seppur criptati seppur sicuri ma se invece siete particolarmente generosi e volete aiutare apple a migliorare l'app salute potete semplicemente premere su consenti. Una piccola funzione aggiuntiva arriva nella sezione sos emergenze una nuova gif un'immagine animata ci mostra appunto come attivare questa modalità ossia premendo 5 volte rapidamente il tasto di accensione. Ed ecco che partirà il conto alla rovescia. L'ultima novità che vi segnalo in questo video riguarda la rimozione di una funzione molto utile che era stata proprio una delle novità di ios 11 ma che apple ha promesso tornerà nella versione finale o già in una prossima beta ossia la possibilità di sincronizzare i messaggi o meglio gli i message con iCloud in modo da tenerli organizzati su tutti i dispositivi. L'impostazione che era presente qui infatti è stata rimossa speriamo venga appunto presto reintrodotta perché era molto molto comoda. Vi do infine qualche parere sulla batteria anche se siamo ancora in stato beta e queste beta ragazzi consumano ancora tanta batteria ma ho notato un leggerissimo miglioramento rispetto alla beta 4 in meno di una giornata di utilizzo quindi non posso farmi un'idea precisa. Questa è una stima di sicuro la situazione migliorerà con le prossime beta o meglio ancora con la versione finale dato che verranno rimossi tutti i processi attivi in background nelle beta. In ogni caso ragazzi questo è ios 11 beta 5 queste sono le novità principali di ios 11 beta 5 ma come bonus vi parlo anche delle novità di watch os 4 beta 5. Le novità di watch os 4 beta 5 sono principalmente due ma ci sono anche dei miglioramenti per la watch face di toy story. Adesso possiamo premere come sto facendo io per cambiare l'animazione per far comparire nuovi personaggi e la watch face in generale è molto più randomica quindi non ci fa vedere sempre lo stesso personaggio come avete visto in un mio precedente video ma appunto cambiano con più frequenza. L'altra novità riguarda il centro di controllo infatti adesso le icone sono state un po' riposizionate in particolare sono state spostate alcune icone per evitare di attivarle inadvertitamente come questa qui per far suonare l'iphone che prima era pericolosamente vicina magari a quella di airplay per scegliere su quale dispositivo riprodurre la musica e quindi si finiva per far suonare l'iphone inadvertitamente. L'ultima novità che riguarda sempre il centro di controllo sono queste nuove icone in alto che però non sono attive e che ci consentono di visualizzare ad esempio l'utilizzo della posizione gps se avete un'apple watch serie 1 ovviamente tramite l'iphone oppure se avete un serie 2 direttamente tramite l'apple watch la connessione allo smartphone ed eventualmente la connessione ad una rete wifi come in questo caso vedete nuovi simboli per un centro di controllo su apple watch che diventa sempre più completo. Bene ragazzi quindi per questo video è tutto abbiamo visto le novità di ios 11 beta 5 su iphone e su ipad abbiamo anche visto le novità di watch os 4 beta 5 su apple watch se vi è piaciuto questo video e ne volete altri come questo allora lasciate un like e soprattutto iscrivetevi al nostro canale seguiteci anche sui nostri account social in particolare instagram facebook e twitter trovate tutti i link in descrizione e noi ci risentiamo al prossimo video ciao a tutti da andrea cervone per iphone italia.com